Oltre 13.000 persone sulle tribune e nel parterra, appassionati di Ippica ma anche curiosi, alla prima volta in un ippodromo tante le famiglie, sono state la cornice della serata di Ferragosto al Sesana. Un appuntamento per Montecatini che si rinnova da tanti anni e che ha arricchito da molte iniziative collaterali, ha avuto tra i momenti più apprezzati la conclusione della quarta edizione di Incanto Liberty, un concorso dedicato alle carrozze che in questi giorni d'agosto ha riportato Montecatini all'inizio novecento. Gli equipaggi che sono stati impegnati in prove di agilità ed eleganza hanno sfilato davanti alle tribune tra l'apprezzamento dei tantissimi presenti. Abbiamo queste bellissime carrozze che hanno fatto il loro lavoro, sono state molto apprezzate, la gente ha applaudito e hanno fatto il saluto dal pubblico quando sono usciti. Adesso, perché le carrozze padronali il guidatore alza il cappello, invece le carrozze che invece erano dei collaboratori dei nobili mostrano la frusta. È una cosa molto bella anche questa che fanno per salutare. Mi sembra che sta andando tutto molto bene.